Aveva allestito una vera e propria coltivazione di cannabis in giardino, 11 piante già alte un paio di metri e pronte per la lavorazione. Per questo un 47enne residente a Bucine è stato denunciato dai carabinieri di San Giovanni Valdarno. L'intervento dei militari dell'arma è arrivato a seguito di approfonditi riscontri investigativi, frutto di un lavoro di squadra dei carabinieri delle stazioni di Bucine e Levane, coadiuvati dai colleghi di Cavriglia. I servizi di appostamento ed osservazione hanno infatti consentito ai militari di individuare i luoghi dove era stato piantato lo stupefacente e di costatare che si trattava di piante già mature, dal fusto robusto e dalle infiorescenze già sviluppate. I militari hanno poi identificato l'uomo che aveva seminato le piante in diversi appezzamenti di terreno, così da rendere più difficili i controlli da parte delle forze dell'ordine. Individuato e responsabile, i carabinieri hanno anche controllato la sua abitazione e i terreni, trovando 11 piante di grandi dimensioni e l'hanno quindi denunciato in stato di libertà per illecita coltivazione di sostanza stupefacente. Le piante sono state estirpate e sequestrate per essere sottoposte ad analisi chimiche che determineranno l'intensità del principio attivo e quindi il numero di dosi che avrebbero potuto essere illegalmente messe in vendita.